Premi come questo, come l'Aquila d'Oro che la società Petrarca ha portato quest'anno già alla seconda edizione, aiutano a conoscere quelli che sono i veri valori dello sport, raccontano di storie di impegno, di resilienza, di passioni, di sacrificio, cioè tutti quelli che sono i veri valori dello sport che probabilmente sono stati un po' dimenticati col tempo. Un premio per celebrare i valori dello sport declinati nella vita quotidiana. La ginnastica Petrarca ed il comune di Arezzo hanno presentato il percorso che accompagnerà alla seconda edizione dell'Aquila d'Oro, l'evento estivo volto a valorizzare le storie virtuose di sportivi e di personalità della società civile che con la loro azione hanno dimostrato di essere positivi esempi di resilienza, determinazione e fair play. Come amministrazione comunale contribuiamo direttamente quest'anno alla realizzazione del premio per un semplice motivo, perché tra gli obiettivi dell'assessorato c'è proprio quello di premiare una volta l'anno le persone che hanno portato in alto il nome di Arezzo dal punto di vista sportivo e non solo, come dicevamo, anche della società civile. Quindi siamo contenti di partecipare attivamente a questo premio che già anno scorso ha avuto un ottimo successo. Il percorso di avvicinamento al premio prenderà il via già dal mese di maggio. Nei mesi scorsi, infatti, una giuria ha individuato degli sportivi a retini o realtà maggiormente meritevoli di essere premiate in tre categorie, resilienza, impegno e determinazione ed etiche fair play. In ogni categoria sono state discusse e valutate tre candidature che saranno sottoposte al giudizio degli utenti di Facebook con una gara a suonte mi piace sulla pagina della stessa Ginnastica Petrarca. Diciamo sempre che lo sport insieme alla famiglia, insieme alla scuola, è una di quelle istituzioni che è un veicolo dei valori fondanti della società ed è quello che vogliamo fare attraverso questo premio, questa serata che quest'anno è stata pianificata in fortezza per il 12 luglio.